I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno portato a termine con successo l'ennesimo colpo al fenomeno dello smercio di droga, questa volta nel popoloso quartiere Picanello, arrestando un pregiudicato catanese di 47 anni. Il pusher aveva allestito un proficuo commercio di droga attraverso la tecnica del delivery door to door, pertanto, dopo essere stato contattato dai suoi clienti, confezionava lo stupefacente che custodiva nel suo appartamento per poi partire in sella al suo motorino per consegnare il prodotto a domicilio, dileguandosi a gran velocità nei vicoletti del quartiere con l'auspicio di passare inosservato. Chiarito il modus operandi dello spacciatore, i militari dell'arma hanno deciso di avviare una serie di servizi di appostamento a distanza e in modalità discreta lungo le strade che il corriere era solito percorrere velocemente, attendendo il suo passaggio e il momento più propizio ed efficace per bloccarlo, scongiurando una possibile fuga. Dopo qualche ora, i carabinieri hanno visto uscire il 47enne dal portoncino pedonale del suo palazzo per avvicinarsi a un ciclomotore di colore nero che solitamente utilizzava per effettuare le sue consegne. I militari del nucleo investigativo a quel punto hanno deciso di intervenire, accerchiando e bloccando il pusher che ha immediatamente estratto dalla tasca dei pantaloni un involucro di carta argentata che ha lanciato verso un tombino poco distante, ma che è stato subito recuperato da un carabiniere, constatando che al suo interno vi era una dose di marijuana pronta per essere spacciata. Dentro l'abitazione, i militari hanno rinvenuto, nei cassetti di una parete attrezzata del salone, diverse buste in plastica contenenti complessivamente 250 grammi di marijuana, ciascuna contrassegnata da un numero che serviva per indicare il quantitativo di droga contenuto. All'interno di uno dei pensili è stato inoltre trovato un bilancino digitale di precisione, diverse bustine per il confezionamento della droga e l'evidenziatore nero per contrassegnare il peso dello stupefacente contenuto nelle varie buste di plastica. Dopo l'arresto, l'autorità giudiziaria ha disposto per il 47enne la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.